Uh, Ricchi per sempre, traccia 5 dell'album di Sferebata Rockstar che esce il 19 di gennaio. Super spoiler! Anzi, guardiamo proprio tutta la tracklist, si apre con Rockstar. Yes. Ok, poi Serpenti e Assonagli. Uh-huh. Mm-hmm. Confermi? Confermi. In senso di 19. Come no? Poi c'è Cupido featuring Quavo. Grandissimo. Cupido! Poi, questa, come la vuoi, a Maragana oppure italianizzata? X, M, X? X and X. Ok, vabbè. Poi Ricchi, per sempre, l'abbiamo appena ascoltata. Uber con un altro featuring. Esatto, nella versione internazionale sarà con Miami Assin dalla Germania, fortissimo. Però, leggenda, altra canzone, poi c'è Bancomat featuring nella versione international con Tiny Tempa. Ah, grande, mio fratello, abbiamo fatto serata a due serie di fila per la Fashion Week, lo saluto. Non voglio sapere altro. Eroi. Poi c'è Sciroppo, anche qui c'è un, c'è il featuring lo stesso, tra l'altro, nella versione italiana, giusto? Sì, lui è l'unico che compare due volte. Draft Gold. Venti collane e poi c'è anche... Venti collane sarà con Rich the Kid, nella versione internazionale. E poi c'è Tran Tran. Che nella versione internazionale sarà remix con Larry Over, un rapper sudamericano. Anche lui è fortissimo, sentirete parlare. Sai che adesso c'è questa nuova ondata di traplatina. Lui è appena firmato con Farruko, spaccherà. E poi aspettiamo il live, perché insomma lì vorremmo veramente vedere che cosa combina. E poi aspettiamo il live.